La regione più nemica del mare. È proprio così. Purtroppo, la campagna è prima in Italia per i reati commessi a danno delle coste. La denuncia arriva da Lega Ambiente con la presentazione del dossier Mare Monstrum 2017, una campagna che un giorno presenta le eccellenze delle località delle vele e un altro le illegalità che devastano il nostro patrimonio. A parlare è Michele Buonomo, presidente dell'associazione in questione, sotto accusa prima di tutto il cemento, che continua a divorare il litorale della campagna, a dispetto di tanti proclami che arrivano dalla regione. Poi resta a livelli di allarme assoluto il problema dell'inquinamento delle acque, dei depuratori inesistenti, degli scarichi fognari e abusivi e degli sversamenti illegali di liquami e rifiuti. Infine c'è anche il fenomeno della navigazione fuori legge e la pesca di frodo, in questi casi però a detenere il record in Italia e la Sicilia, ma la campagna si pone al terzo posto. Noi, dichiara Buonomo, continuiamo a credere e lottare per quella campagna virtuosa che punta su innovazione, bellezza e sostenibilità e in questa direzione proseguono le campagne estive per promuovere le buone pratiche che contribuiscono alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ecosistema marino e come ogni anno arriva l'appuntamento con Goletta Verde, la storica imbarcazione di legambiente che naviga a lungo tutta la penisola per monitorare le qualità delle acque e che farà tappa in campagna il 4 luglio a Castellammare di Stabia, il 5 e il 6 luglio a Salerno e il 7 luglio a San Marco di Castellabate.